la coppa UEFA l'Atalanta ha passato il turno grazie all'1-1 di Zagabria di Boban su calcio di punizione il gol del Dinamo vedete adesso il fuoriclasse eugoslavo esultare pareggio su calcio di rigore dell'Atalanta per questo intervento dei difensori su caniglia in area il gol dell'Atalanta viene messo dal bischetto in rete da Evair ci sono state molte grazie